Ci troviamo oggi con il sindaco di Avella, l'avvocato Dominico Biancardi, e qui chiediamo quali saranno i prossimi progetti in cantiere del Comune, i prossimi lavori pubblici? Diciamo che i prossimi progetti li stiamo valutando anche sulla base delle ultime programmazioni della Regione Campania e quindi già siamo al lavoro per le misure 1.9 e 1.12 che il 28 marzo scadono e quindi già siamo pronti con la progettazione. Contemporaneamente però stiamo correndo per portare avanti e quindi poi successivamente, quindi a termine, i progetti che sono stati già finanziati. Quello dell'area museale che sono già avviati i lavori qui al Palazzo Ducale che prevede ovviamente il nuovo museo nel Palazzo Ducale, poi il giardino sarà ovviamente completamente ristrutturato e così anche come la rete fognaria che sono stati già assegnati all'impresa i lavori, salvo che l'impresa ha un leggero ritardo perché l'ANAS vuole un piano di sicurezza specifico che è stato approvato perché si interviene su una nazionale delle Puglie ed è giusto che questo l'ANAS ha dato il parere favorevole anche sul piano di sicurezza, quindi saremo a giorni che inizieranno anche la rete fognare. Mentre l'area PIP già sono stati avviati i lavori per l'intera urbanizzazione dell'area PIP e anche il Gaudio Sciminaro sono arrivati già in contabilità l'assegnazione per cui a momenti inizierà, salvo il cattivo tempo che purtroppo sta imperversando, inizieranno i lavori anche nell'area del Gaudio Sciminaro e quindi di mettere in sicurezza anche quell'area. La settimana scorsa abbiamo ritirato anche l'altro decreto in Regione Campania che vede invece l'inizio dei lavori per l'albergo in località Ex Mulino e anche il nuovo bar e biglietteria davanti all'anfiteatro, cosa che avvieranno i lavori. Il bando di gara sarà avviato entro questo mese, quindi entro il mese di aprile avvieremo anche lì i lavori. Siamo in completamento invece dell'arteria di collegamento invece con Roccaraino, la Cicciano, con via Petrorelle e anche lì sarà completata l'opera credo nel mese di marzo con rete fognaria, questo anche a carico della comunità montana, con nuova rete fognaria e quindi anche lì poi sarà collegato il tratto di rete fognaria di via Sant'Angelo con il collegamento poi alla rete attuale che stiamo già realizzando. Quindi anche via San Nazaro sarà soggetto quindi a rete fognaria, via Tombe Romane, insomma sarà un'opera immensa che vedrà veramente recuperare questo paese sul piano proprio delle infrastrutture, recuperare molti e molti anni che purtroppo sono stati trascurati. Così come per esempio anche il problema dell'acqua e il pozzo idrico, diciamo che entro quest'anno sarà completato anche la messa, sarà calata la pompa perché purtroppo non abbiamo potuto onorare i pagamenti perché il patto di stabilità impone fino a un tetto e quindi noi pur avendo i soldi a disposizione perché abbiamo concessione di mutuo non abbiamo potuto pagare l'impresa perché i lavori che sono stati avviati dal Comune sono stati addirittura superiori a quelli che impone lo Stato per poter fare noi come ente la percentuale di lavori e oltre il quale non possiamo eseguire. Quindi già da quest'anno primi giorni insomma di questo mese di marzo sarà già avviato il pagamento per il pozzo in località Castello. Quindi c'è tutta una serie di programmazioni di quello che abbiamo fatto in questi tre anni e che adesso finalmente vedono l'inizio di tutte queste opere. Nell'ultimo Consiglio Comunale c'è stata questa diatriva tra lei e il consigliere d'opposizione Pellegrino Palmieri che proprio domenica scorsa è uscito con un manifesto accusando di essere un padrone. Ma insomma prima si accusava il Paese di non avere un sindaco, di non avere un sindaco compulso, adesso invece probabilmente sia un sindaco che incide molto sull'andamento progettuale del Paese e diciamo sugli obiettivi che il Paese ha da recuperare e si dice che questo sindaco invece è un sindaco padrone. Insomma mettiamoci un poco d'accordo. Io sto in maggioranza lavorando dal primo giorno o meglio dalla campagna elettorale che ho detto alla gente che l'intenzione nostra e di questa amministrazione era di recuperare i molti e molti anni dove in questo Paese ci sono problematiche vecchie e che noi abbiamo affrontato con grande energia ottenendo numerosi finanziamenti. E questo è sotto gli occhi di tutti. Quindi adesso avviano anche i lavori di questa opera che noi abbiamo fatto. Quindi tutto quello che noi abbiamo promesso siamo andati addirittura al di là di quelle che erano le nostre aspettative. E con questo continueremo ancora perché andremo a recuperare anche l'area delle cooperative con un bocciodromo che sarà installato proprio nell'area delle cooperative. Questa è una novità che te la comunico. Che è già arrivato proprio stamattina la struttura in legno che è coperto. Quindi voglio dire che qui si continua e si corre velocemente. Però poi strumentalizzare e dire cose che assolutamente non fanno parte di un linguaggio di serenità, di un linguaggio soprattutto di sincerità che va trasmesso alla gente, all'elettore e questo fa male. Io in Consiglio Comunale ero seduto al mio posto e quindi non ho fatto nulla diciamo di eclatante se non rispondere ad una indicazione che veniva data dal Consigliere Palmieri circa le indennità che il Sindaco ha sempre rinunciato insieme a lui anche gli assessori di giunta. Quindi mai questo Comune ha pagato agli assessori e al Sindaco le indennità. I cittadini di Avella devono sapere che le indennità aspettanti al Sindaco non è di poco importo. Parliamo di 2.600 euro al mese che dovrebbe essere dato al Sindaco e di circa 900 euro al mese che toccherebbero agli assessori. Noi sin dal primo mese abbiamo fatto atto di rinuncia e parliamo del 2011 perché viveva qui il Commissario Prefettizio e quindi in bilancio già non c'erano le voci delle indennità. Noi già abbiamo rinunciato per i cinque mesi del 2011 appena dopo eletti. Nel 2012 invece, io parlo con gli atti, sono pubblicati su internet quindi chiunque le può vedere, anzi li consegno a voi questa mattina. Ci sono le tre delibere del 2012, 2013, 2014 e la 2015, già è stata fatta, la troverete anche quella su internet, dove gli amministratori hanno fatto la rinuncia delle indennità. Però nel nostro bilancio che è un bilancio abbastanza risicato, nonostante i numerosi migliaia di euro che abbiamo avuto come eredità, 4 milioni di euro che abbiamo onorato e quindi abbiamo tirato fuori i soldi per pagare i debiti pregressi, noi non potevamo certamente attingere soldi dal bilancio comunale per poter creare la fondazione. Una parte di queste indennità, cioè 55.000 euro, sono state destinate con delibera numero 33 del 2012, io la consegno a voi, al capitale di scopo della fondazione. Cioè vale a dire, la fondazione così come una società, una SRL, per poterla costituire c'è bisogno di versare alla banca un capitale minimo di 20.000 euro, altrimenti nessun notaio ti può fare l'atto. Così come la fondazione, se non c'è un capitale di scopo di 55.000 euro, così come ci dice la Regione Campania, noi non potevamo costituire la fondazione, poiché noi riteniamo che la fondazione è uno strumento indispensabile per questo paese, per lo sviluppo del turismo, per tutte le cose che noi stiamo mettendo in campo, era doveroso da parte nostra, l'avevamo anche detto in campagna elettorale, che questa fondazione doveva essere costituita. L'abbiamo costituita e una parte delle indennità sono state destinate interamente alla fondazione. Poiché nel bilancio comunale non c'erano i fondi, sono stati presi i fondi delle indennità di 55.000 euro. La restante parte delle indennità è stata lasciata al bilancio comunale, così come possiamo vedere la delibera del 2013, recita praticamente che autorizzare i responsabili dell'area amministrativa e finanziaria per l'incremento delle somme destinate in bilancio per i servizi culturali e per la gestione dei casi di emergenza sociale. Quindi ogni anno noi abbiamo lasciato i fondi e abbiamo detto dove potevano essere utilizzati questi fondi, così come anche quelle del 2014. Abbiamo lasciato i fondi, una parte l'abbiamo data per il bilancio comunale, un'altra parte per le esigenze sociali. Si sono venute qua 50 famiglie con il modello ISEE e hanno detto che non possiamo pagare le tasse al comune, e quindi la TASI o viceversa la TARS o altro ancora, queste tasse noi le abbiamo rottamate per le famiglie che non hanno reddito con i soldi e i proventi che abbiamo rinunziato alle indennità. Quindi noi certamente, incominciando da mio zio Domenico Biancardi, poi mio fratello Vincenzo Biancardi e io, non ci siamo mai presi alcuna indennità. E io nel patto elettorale che ho fatto, ho detto alla gente che questa amministrazione altrettanto le indennità le avrebbe lasciate al comune, così come le abbiamo lasciate al comune. La fondazione è uno strumento importantissimo, perché altrimenti, vedete, non si potrebbe capire questa polemica contro la fondazione. È uno strumento importante perché? Perché consente alla fondazione stessa di poter richiedere finanziamenti alla Regione Campania, di poter partecipare a bandi di gara, così come quella della misura 1.9, così come già abbiamo partecipato noi come fondazione alla prima misura dove è stata finanziata il nuovo bar biglietteria davanti all'anfiteatro e così come è stato finanziato anche il bread and breakfast nell'area ex Mulino. Il bread and breakfast, noi abbiamo avuto dei punteggi superiori rispetto a Mirabella e Clano e altri paesi, e così come anche Pompei, perché noi abbiamo dimostrato che i due milioni di finanziamento che dovevano essere dati, noi li potevamo gestire attraverso il piano gestionale della fondazione Avella Città d'Arte. Cioè loro la Regione ti dice, ok, noi vi diamo i soldi per l'anfiteatro, vi diamo i soldi per l'albergo, ma come lo mettete in funzione, voi l'albergo, attraverso la fondazione che curerà il piano gestionale. Quindi questo è uno strumento utile che ci fa acquisire punteggi, oltre che sviluppare cultura e così come ha fatto la guida turistica, così come le manifestazioni che sono state fatte negli anni passati, ma ovviamente per fare questo c'è bisogno, poiché la fondazione è un braccio del comune, non è una fondazione o un'associazione privata. Il bilancio della fondazione viene fatto dal bilancio del comune, c'è un proprio revisore contabile, è una partecipata del comune a tutti gli effetti, ma è una partecipata comunale. Quindi tutta questa polemica, montare questa polemica e far capire alla gente che le indennità del sindaco ci sono state prese o non sono state prese, dare questi interrogativi a chi sta lavorando da 4 anni senza mettersi un euro in tasca delle indennità e parliamo di 2.600 euro al mese, questo se mi consentite a me fa male, fa male soprattutto quando si vuole far trasmettere un messaggio alla gente che è distorto rispetto ai fatti così come si sono verificati, perché poi in privato mi si fanno i complimenti e mi si dice che sto operando bene, che stai facendo tutto per il paese, stai recuperando anni, poi si viene in pubblico e si viene a dire una cosa completamente diversa e offendendo anche le persone. Quindi questo per me è un'offesa perché chi ha lavorato, chi lavora per il comune e chi sta ottenendo tanti risultati, non certamente solo con l'ausilio del sindaco, ma soprattutto anche con l'ausilio della giunta e di tutti i consiglieri comunali, perché da solo io certamente non avrei potuto ottenere tutto quello che ho fatto, sia con la parte del comune, sia con la comunità montana, parcheggio Castellano che sta in via di completamento, cioè qua ci sono opere che prima nell'anfiteatro non si potevano neppure entrare, o meglio probabilmente entravano i greggi di pecore, i cavalli nell'anfiteatro, ho fatto la messa in sicurezza, il primo finanziamento, l'illuminazione, adesso verranno messe le scale con le gradinate complete, cioè sarà reso utilizzabile, a tutti gli effetti, quindi c'è massima attenzione ai beni culturali, protocollo d'inteso con la sovrintendenza per quanto riguarda la gestione del museo e la gestione dell'anfiteatro, cioè voglio dire a tutto campo non abbiamo tralasciato niente o quasi nulla rispetto alle reali esigenze di questo territorio, potrei andare avanti per ore a parlare, ma comprendo la vostra difficoltà a tenere un servizio così lungo. Ringraziamo il sindaco. Grazie. 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 Grazie.